Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Lotta alla povertà e alle disuguaglianze. La Regione Abruzzo investe sull'inclusione stanziando oltre un milione e mezzo di euro per abbattere le barriere sociali. Rendere le città più inclusive è l'obiettivo posto alla base dell'avviso riservato alle associazioni del terzo settore impegnate in attività di volontariato e di abbattimento delle disuguaglianze sociali. La misura è stata presentata a Teramo dall'assessore regionale alle politiche sociali Pietro Quaresimale nonché dal dirigente del Servizio Programmazione Sociale della Regione Raimondo Pascale. La grande novità di quest'anno, ha spiegato l'assessore Quaresimale, è la dotazione finanziaria dell'avviso. Un importo di 1,6 milioni di euro per finanziare i progetti per l'abbattimento della povertà e delle barriere sociali di inclusione non si era mai visto. Nella nostra regione, ha aggiunto l'assessore, si registrano, anche se misure sensibilmente minori rispetto ad altre regioni, criticità in alcuni territori in tema di emarginazione. L'avviso intende creare le condizioni per una migliore vivibilità dei nuclei urbani grandi e piccoli. Possono presentare domanda le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni iscritte all'anagrafe delle Onlus, le fondazioni che conseguono ex novo l'iscrizione al registro nazionale del terzo settore, il finanziamento regionale complessivo richiesto va da un minimo di 10 a un massimo di 30 mila euro e detta quota non dovrà superare il 90% del costo totale del progetto approvato. Le domande per ottenere il finanziamento ai progetti possono essere presentate online sulla piattaforma sportello.regione.abruzzo.it fino al 9 ottobre 2023.